Jango, dimmi una cosa. Quanto ti piace fare il cacciatore di taglie? Un sacco mi piace. Siamo una bella squadra. Qual è il tuo piano, Jango? Liberare mia moglie. A liberare la gente sono bravo. Che ti interessa se la trovi? Non avevo mai ridato la libertà a nessuno. Mi sento responsabile per te. Che faremo? Calvin Candy. Il padrone di Candyland. Se permettete, con tutto ciò che è di mia proprietà, faccio quello che mi vale. È confermato che tua moglie è a Candyland. Sei sul serio libero? Sì. Cioè tu vuoi vestirti così? Fluido è più importante che veloce. E più importante che fluido, è preciso. Mi piace come muori. Ho passato la vita qui, a Candyland, circondato da facce nere. Tutto quello che vedete è di mia proprietà. Non sono colpito. Ne ho sentite su di voi. Centro. Non mi quadrano questi due. Hanno fatto un sacco di miglia. Passato un sacco di guai solo per quella ragazza. Ciao, piccola peste. Ma che gli farai mai alle donne tu? Ti prendono per il culo. Il tuo capo se l'è un po' presa per le ragazze. È che io sono più abituato agli americani di lui. È ora di liberare tua moglie. È quello che faccio. Giocherò sporco. Non uscirete vivi da questa cortea. Figli di Troia! Senza dubbio. Non uscirete vivi da questa corte.